Il programma arcipelago educativo promosso da Save the Children e dalla Fondazione Agnelli vuole colmare un vuoto, un vuoto che si produce l'estate nel periodo di chiusura delle scuole e che va ad aumentare le disuguaglianze educative per i bambini e i ragazzi che non hanno la possibilità di fruire l'estate di opportunità educative, di gioco, di socialità e quindi il programma consiste nell'aprire le scuole l'estate con dei team di educatori che in collaborazione con i docenti offrono a bambini e adolescenti un ambiente di crescita dove ci si diverte, si gioca ma allo stesso tempo si apprende.